Primaria PD a Ischia, un successo dell'area renziana? Sì, domenica scorsa c'è stato questo momento di partecipazione piuttosto importante, anche dal punto di vista dei numeri, chiaramente non si potevano replicare i numeri delle primarie, questo è evidente, però comunque c'è stata una buona partecipazione e il candidato dell'area renziana ha ottenuto un successo straordinario, soprattutto qui nel comune di Ischia. Due ischitani in assemblea regionale al PD, un traguardo importante per l'isola di Ischia? Un traguardo molto importante per l'isola di Ischia, noi oltre a queste rappresentanze sicuramente contiamo anche di avere future rappresentanze dal punto di vista politico nei palcosceni che contano e sotto questo aspetto probabilmente la stessa candidatura, anzi sicuramente quella di Giosi Ferrandino all'europea avrà una rilevanza assoluta sotto questo aspetto. Si apre adesso la successione a Giosi Ferrandino, chi verrà dopo Ferrandino a Ischia? Ma dopo Ferrandino a Ischia, diciamo sicuramente ci sono nell'ambito del gruppo attuale che amministra il paese, ci sono le professionalità, le capacità e anche l'esperienza per amministrare bene questo paese. Se Giosi dovesse raggiungere questo obiettivo e noi riteniamo che ci siano tutte le condizioni perché ciò accada, faremo una serena analisi nell'ambito del gruppo stesso di maggioranza per verificare se quel gruppo e dal mio punto di vista questo gruppo ha le potenzialità per esprimere il successore di Giosi Ferrandino, faremo una riflessione nell'ambito del gruppo per capire un attimo quali sono le condizioni essenziali perché si arrivi a questa successione. Il successore dovrà avere la capacità anche di mediare nelle problematiche che sicuramente si potranno verificare e poi l'altro aspetto è che dovrà essere una persona che ha consenso nel paese, questo è fondamentale. Potrebbe avvenire questa scelta con le primarie? Potrebbe sicuramente avvenire con le primarie perché il Partito Democratico lo ha già fatto e lo fa regolarmente sia in ambito nazionale che in ambito locale. È una delle possibilità, assolutamente non la scarto, ma questo dovrà avvenire fuori sempre nell'ambito di un ragionamento che noi faremo probabilmente molto presto. Grazie. Grazie.